Cremona, Japan Show, salone dell'arte giapponese e Koi, ovvero l'arte dell'allevare le carpe. Siamo in compagnia di Massimo De Bellis, lui è il direttore di Cremona Fiere. Massimo, intanto dietro di noi c'è un bellissimo kimono. Sì, questo kimono fa parte della collezione del consolato giapponese che non solo ci ha dato dei fantastici pezzi da mostrare, da mettere in mostra nella manifestazione sulla cultura giapponese, ma ha anche dato proprio il patrocinio della componente culturale di questo evento. Ecco, da dove nasce la passione per gli abitanti di Cremona per il Giappone? Ma, a dire la verità, l'origine è un po' singolare. Noi abbiamo all'interno del nostro quartiere felistico diverse manifestazioni che vanno dalla musica, gli strumenti d'alta gamma come estra di vari, quindi la cultura cremonese, alle vacche da latte e da qualche anno anche animali domestici. Negli animali domestici c'è una parte molto importante di acquariologia nella quale ci sono le carpe, da cui è nata l'idea lo scorso anno di inserire il campionato internazionale di carpe giapponesi e quindi automaticamente abbiamo inserito anche la parte di cultura giapponese. Esattamente, abbiamo visto delle carpe bellissime, ci saranno delle premiazioni, no? Immagino, perché... Sì, sì, il concorso vede 37 vasche con 160 esemplari provenienti da Italia e Europa, con giudici che arrivano anche in questo caso dall'Europa e poi fanno la loro valutazione degli animali in mostra. Diciamo che qui vediamo la cultura giapponese in tutti i suoi aspetti. Siamo con un istruttore, lui si chiama Sandro, non ci insegna l'arte del jiu-jitsu, esatto, ma bensì un'altra arte, quella del bonsai. Sì, insegno l'arte del bonsai. Ecco, un'arte, presumo che ci voglia molta pazienza, no? Per avere un'opera d'arte, di fatto, come questa. Allora, sì, la pazienza poi si vede nel risultato finale. In realtà il bonsai è il vivere quotidiano la pianta. Non è una pianta che nasce bonsai, è una pianta normale che normalmente viene destinata a altri usi, viene lavorata tramite potature e il tempo a quest'arte, che è il bonsai, che è la raffigurazione di una pianta in miniatura. Con Elena oggi ci parla di qualcosa di particolare, perché sembrerebbero delle pitture, dei dipinti, ma in realtà? In realtà sono impronte di pesci veri. Raccontaci la tecnica. Dunque, la tecnica si chiama Gyotaku, che vuol dire pesce strofinato. Si tratta di una tecnica giapponese che fu introdotta intorno agli anni 30 dell'Ottocento per, diciamo, avere un ricordo di una pesca particolare, una cattura particolare tra i pescatori del Giappone. Insomma, si sono inventati questa cosa di inchiostrare il pesce e di metterci sopra la carta e trarne così l'impronta. E da Cremona per un giorno Tokyo è tutto.